Lei vota no, vero mi pare? Lei vota no, sì. Voto no. E perché? Voto no, posso sciorinare. Quale è una delle ragioni? La ragione proprio principale per cui voto no è perché fondamentalmente questa riforma, a parte tutti gli altri argomenti che sono molto controversi, accentra le mani nel potere del governo e riduce i poteri del Parlamento. Secondo me nel nostro paese in cui abbiamo una classe politica così mediocre e scadente il fatto che decida uno solo qualsiasi di questi è una catastrofe, è una riforma antidemocratica ed è una riforma che infatti viene fatta dietro la spinta appunto delle richieste della destra europea che vanno tutte in questa direzione, cioè essere veloci perché? Perché così poi si può decidere velocemente appunto di vendere pezzi dell'Italia a privati senza parlarne abbastanza o comunque fare leggi che vanno sempre a favore dei privati e non a favore del pubblico, quindi no.